Manerbio, siamo con Paola Samintendi, Paola sei qui in veste di cavaliere, come è andata? Bene, bene bene, abbiamo saltato nel campo in erba, che devo dire che ormai non siamo più abituati, infatti ero un po' prevenuta e a casa ho fatto due saltine nel campo in erba, però poi i miei cavalli si sono ben comportati, il primo giorno sono arrivata a terza nella 35 mista con Cassilio, che poi ha sempre saltato le 35 bene, con la cavalla sono andata in progressione, il primo giorno ho fatto qualche errore, ieri un errore, oggi sono trasferita nella sabbia, ho saltato la 40, ho fatto un errore, ma sono più che soddisfatta. Iniziamo a parlare sempre, continuiamo a parlare di cavaliere, dalla tua veste di cavaliere, di amazzone, prossimi appuntamenti dove ti possiamo trovare? Credo che salterò alla fine del mese a Cattolica, non sono ancora sicurissima, avevo in progetto un viaggio, ma considerato il terrorismo in giro per il mondo è meglio rimanere nel mondo dei cavalli che è più sicuro. Tu sei giudice, steward, fai praticamente parte di questo mondo, cosa farai prossimamente? Sono tornata da poco, quest'anno sono stata ad Arezzo, una tappa del Toscana Tour, sono stata a San Centur, che è un posto stratosferico bellissimo e poi mi hanno invitata e sono contentissima di andarci al Global a Madrid, che è a metà maggio circa, la settimana prima di Piazza di Siena. Purtroppo a Piazza di Siena mi hanno invitato come steward, ma non posso andare per un impegno di lavoro e siccome devo vivere col mio lavoro, sono costretta a rinunciare. E sempre il vero problema è proprio far coincidere, consigliare gli orari di lavoro e di amico. Sì, io sono fortunata perché ho un fratello che mi sopporta, mi vuole bene e mi permette di andare a cavallo tutti i giorni, però tutti lo sappiamo che il menage per mantenere i cavalli è, bisogna avere un po' di disponibilità anche economica oltre che di tempo e quindi io continuo a lavorare, ma ne sono fiera e contenta. Iniziamo con Madrid, un piede dentro il Global, lo mettiamo, magari poi arriverà anche a Roma? A settembre? Chi lo sa, magari, poi quello Stadio dei Marmi è stratosferico, bellissimo. Adesso vedevo ieri sera, prima di andare a dormire, ho visto il Global, la città del Messico, anche quel, poi gli italiani, Lorenzo De Luca è arrivato quarto, mi sembra, per cui magari mi piacerebbe moltissimo, chissà, speriamo. Bene, grazie mille Paolo. Ciao Paolo, grazie a voi.